Ciao ragazzi, video veloci veloci per spiegarvi più che altro come si fa a riscattare la nuova skin galassia Sorina, tempesta di stelle, non so bene come si chiama, non mi ricordo comunque diciamo Sorina, la nuova doveva essere in realtà la nuova ricompensa del nuovo torneo Samsung Galaxy, quindi la nuova skin galaxy. Poi in realtà c'è stato un diverbio penso tra Epic e Samsung perché ha praticamente di punto in bianco annullato il torneo, quindi si ritrovava sta skin e non sapeva dove infilarla piuttosto che darla gratis a tutti, ha pensato di fare una scammata enorme. Quindi siccome tantissimo mi l'avete chiesto, ora cerco di spiegarvelo il più facilmente possibile, come si riscatta. Partiamo dal tweet di Epic, nuovo costume gratuito. Se hai giocato a Fortnite su un dispositivo Samsung dal 3 dicembre 2022 al 16 agosto 2024 puoi ottenere tutto il set Serenity giocando di nuovo sul tuo dispositivo Samsung tramite l'Epic Game Store per Android prima del 15 settembre. Quindi cosa vuol dire? Se voi avete giocato a Fortnite da Samsung raga, non Xiaomi, non Huawei, non Redmi o iPhone o Nokia o Motorola, Samsung Galaxy A3, vanno bene anche i tablet, non doveva essere per forza un cellulare, andava bene anche un tablet, sempre Samsung. E dal 3 dicembre 2022 al 16 agosto 2024, quindi da settimana scorsa più o meno, fino al 3 dicembre, qualsiasi cosa ragazzi, eravate solo entrati per guardare lo shop, oppure perché volevate vedere se il vostro cellulare supportava Fortnite, se l'avete fatto in questi due anni a partire da settimana scorsa, vi dovrebbe dare la skin e tutto il set in regalo, però, però c'è un però, dovete entrare nuovamente da un dispositivo Samsung, va bene anche qualsiasi altro dispositivo Samsung, prima del 15 settembre, se no non ve la dà. Il tutto deve essere fatto da un account, cioè da una versione di Fortnite ufficiale, quindi scaricata dall'Epic Store, quindi un'applicazione Android originale, non server privati, applicazioni moddate, eccetera, eccetera. Era tutto questo ambaradam per farvi capire che comunque ci hanno scammato, perché la notizia tra l'altro è uscita il 17 agosto, quindi il giorno dopo, non hanno dato la possibilità a nessuno di cercare un cavolo di Samsung in casa o da amici per scaricare Fortnite e per permettere a tutti di averla gratis, quindi uscirà poi nel negozio oggetti e sarà a pagamento, poco male perché la skin non è un gran cap, però sarebbe stato bello darla gratis, dire, non so, giocare fino al 15 settembre, visto che poi bisogna rientrare prima del 15 settembre per ottenerla, potevano fare, basta giocare dal dispositivo Samsung fino al 15 settembre, boh, così io andavo da mia mamma e mi facevo prestare il Samsung e mi riscattavo la skin gratis anche io, e invece niente, una piccola scammata da Epic, ragazzi, spero di essere stato chiaro, me l'avete chiesto in tanti, come mai non avevate ricevuto la skin, il motivo l'ho spiegato, lei Cozzo, mi raccomando, per supportare il canale, codice creatore Wander-8 Creepy, se lo usate, mi raccomando, taggatevi, ciao!